gioia sport il blog con tutto lo sport della tua città gioiasport.com siamo in compagnia del presidente Enrico Gaetano presidente della Paolana presidente alla fine di questa partita che ha visto vincere la nuova gioiese sulla sua squadra un suo giudizio una sconfitta meritata per la Paolana o ha qualcosa da recriminare meritata noi non c'eravamo proprio oltre che mancavamo quattro elementi ma anche perché siamo contati ma la gioiese ha vinto meritatamente questa squadra penso può puntare tranquillamente al primato nonostante tutto comunque presidente quanto meno l'impressione che ha dato la sua squadra dagli spalti di essere una squadra molto compatta e combattiva nonostante le assenze però si sono visti due tre elementi che sono in grado di fare la differenza come gentile soprattutto a Lassani ma noi non finalizziamo noi abbiamo la punta che Provenzano è infortunato ha subito un incidente nella partita Corrocella in Acosto l'ingrinata per un intervento non troppo diciamo così ortodosso e niente quando ci manca la punta che è l'unica paghiamo. Presidente comunque voglio dire un piccolo bilancio a un terzo di torneo si può fare la Paolana si può ritenere soddisfatta del cammino intrapreso finora? Sì noi ci dobbiamo fare un dobbiamo fare un campionato dignitoso cioè non non abbiamo mire anche se gli altri ci ci danno per playoff noi puntiamo solamente a fare un campionato dignitoso sperando che l'anno prossimo possiamo incrementare il risultato di quest'anno voglio ringraziare tutti i dirigenti della gioiese per la signorilità la correttezza e l'accoglienza che abbiamo avuto e saranno ripagati anche a Paolo per questo. Presidente per concludere lei prima parlava di uomini diciamo contati perché magari l'organico ancora non è molto a gennaio voglio dire si opterà per un qualche piccolo ritocco? Qualche piccolo ritocco dobbiamo farlo perché altrimenti ogni volta che ci manca qualche elemento non abbiamo delle istituzioni.